Sindaco Bitonci, l'ho sentita appellare Barison presidente, quali le sue aspettative? Beh, ovviamente sono qua per supportare la candidatura di Barison, io penso che sia una candidatura questa, a differenza delle altre, che è partita veramente dai sindaci, ci sono moltissimi sindaci e amministratori della provincia, adesso sentiremo anche quali sono le intenzioni di Massimiliano Barison, so che lui farà molte serate in giro per il territorio, le farà ovviamente per raccogliere le istanze dei cittadini e quindi per presentare un programma elettorale che sia per la provincia di Padova, noi sopportiamo assieme due liste, una di queste che porta il suo cognome e un'altra che è la lista provincia di Padova, provincia di tutti, che quindi fa capire qual è il senso di questo gruppo, che non vuole escludere assolutamente nessuno, anzi includere e che vuole portare avanti una provincia con un presidente che sia presidente di tutti i sindaci, di tutti quanti i consiglieri, certo che è un'elezione di secondo livello, ci saremmo aspettati un'elezione dove andassero a votare i cittadini, la normativa ha voluto trasformare questo ente in un ambito territoriale, quindi con minore importanza, però rimangono sempre le scuole, rimangono sempre altri servizi che comunque la provincia può dare.